sembra uno di quegli strani mondi in cui spawni nel void con solamente una piattaforma sotto i piedi ma ovviamente non è questo il caso perché credo abbiate letto tutto il titolo ho aggiornato un'altra volta tutto il mio intero mondo di minecraft e per chi non lo sapesse nell'ultimo periodo inviata a costruire tutta una nuova zona andando a realizzare anche dei video in cui per esempio vi mostro la nuova piazza i nuovi progetti e così via che non lo sapesse mi trovo in una piattaforma altissima va a raggiungere il limite del mondo infatti se provo a costruire minecraft ma lo vieta vi ho battuto il limite del mondo piazzando degli armor stand qui con armature inederite perché abbiamo le ceste piene quindi ci sta per costruire questa gigantesca torre ho fatto altro che utilizzare degli alberi andava a spawnare un albero sopra la chioma del precedente poi andava a creare il piano con i vari blocchi di ferro e così via da qui si inizia già a intravedere qualcosa sta zona che vedete è completamente nuova ad esempio quella costruzione l'ho finita tipo 10 minuti fa tant'è che ho ancora dei blocchi nell'inventario un po strano vedere il copper arancione ma deve ancora ossidarsi e purtroppo ci vuole tempo credo si possa vedere una differenza netta fra la zona nuova che è questa qui che utilizza i blocchi in ferro il quarzo comunque sembra una zona più futuristica la zona vecchia che utilizza semplicemente la blackstone nella legna un paragone fra le due zone dato che il mio computer me lo consente dire di alzare i chunk che altro non per una potenza di calcolo della macchina in sé ma per una malottimizzazione di minecraft java ti è su minecraft bedrock anche con i chunk al massimo va molto fluido tutto questo c'è anche da dire che è un mondo molto costruito comunque ci sono una serie di problematiche legata ad altro la lì è la zona possiamo definirla vecchia comunque la zona in cui c'è anche casa nostra c'è l'ascensore è la zona che avete sempre visto lungo il corso di questi anni da questa parte in poi abbiamo tutta la zona nuova con le nuove costruzioni alcune sono ancora in sviluppo come per esempio quella lì è una specie di megatorre realizzata in uno stile particolare stavo pensando di farla diventare la mia nuova base di scendere dall'albero perché sono già tipo tre minuti che sono fermo lì iniziare a girare il mondo ecco un attimo mostrarvi il mio mondo dall'alto e darvi una ripresa completa sa che devo andare a disattivare le nuvole credo che da questa foto si riesca a capire tutti i cambiamenti che sono andato a realizzare tutta questa zona che vedete costruita in quarza è la zona nuova e questa qui è la zona vecchia stavo anche pensando di espandere tutta la zona nuova anche in questa direzione è un casino perché devo di nuovo mettermi a distruggere gli alberi proprio devo essere sincero la zona nuova mi piace molto di più della zona vecchia adesso vi mostrerò anche la nuova costruzione mostro un attimo l'effetto di entrare nella zona nuova ingresso è da questa parte questa casa nella zona vecchia comunque passaggio come lo volete definire si va alla zona nuova come vedete in alcuni punti ancora in costruzione come per esempio qui sotto dovrei completare il tunnel aggiungere delle luci però il tempo è limitato anche altre robe da fare soprattutto oltre a essere limitato il tempo sono limitate le risorse che mi può offrire la farm di ferro se la farm di ferro non produce non posso costruire qui abbiamo questa prima costruzione inizialmente doveva essere un palazzo simile agli altri poi ho realizzato qualcos'altro design carino è una specie di faro devo pensando di andare a inserire un altro beacon in questo punto perché sembra starci perfettamente ed è soprattutto una zona molto centrale e soprattutto abbiamo un beacon duplicato quindi potremmo sfruttarlo inoltre mi sono messo a costruire delle mini basi a quelle che avete visto prima su quell'albero vari alberi così da avere dei punti di appoggio per quanto riguarda questa mega costruzione invece ancora in costruzione perché ci vuole veramente tantissimo tempo e soprattutto materiali tempio del copper mi è rimasto un solo blocco che adesso andremo a piazzare ancora ossidarsi un bel po di roba una nuova costruzione che volevo utilizzare un po come seconda casa ecco in questo mondo ci spostiamo principalmente con l'elitra facendo in modo che questa torre sia molto alta e abbia più piani praticamente raggiungibile da qualsiasi lato so ancora cosa costruirci però ci andrò a costruire qualcosa ci sono vari piani che sono completamente vuoti non hanno anche i mob che non sono illuminati c'è molto il design di questo luogo ecco sembra una farm di mob rimesso addirittura in vita quindi potremmo anche catturarlo perfetto catturato a questo punto non dobbiamo fare altro che rompere questi blocchi andrò a piazzare del vetro in un secondo momento per il momento mi serve non il blocco di smeraldo ma la mia shulker box in cui ho ben quattro name tag andiamo a craftare un incudine pochiamolo fuoco completamente a caso nel suo modo non dovrebbe più despaunare riprendo le mie shulker box se avete qualche suggerimento su qualcosa da costruire in questo mondo per andarla ad aggiornare se avete qualche idea in mente per migliorare questo mondo scrivetela qui sotto con un commento così che possano lo so realizzarla parte che tipo qui manca la strada quindi dovrei mettermi qui a costruire vedete questo mondo c'è sempre qualcosa da fare volevo mostrarvi la nuova zona sa zona sopraelevata che sono andata a costruire e vengo a mostrarvi soprattutto la parte inferiore sono andata a realizzare ispirandomi sotto bosco che avevo incontrato nella mia serie minecraft mod pack che non lo sapesso una serie mod data che vi consiglio di guardare perché secondo me ne vale la pena e praticamente qui sotto sono andata a realizzare specie di bosco scuro il bioma che si trova all'interno della toilet forest secondo me quando avremo le scedere questi blocchi di vetro andranno a realizzare un effetto molto carino devo appunto realizzare una parte della città sopraelevata quindi sono partito da questa base ho messo a costruire un po ovviamente ho utilizzato anche i blocchi di terra per evitare di sprecare troppo ferro troppo quarzo perché non ho risorse illimitate questo qui è un po risultato finale come al solito qui deve ancora ossidarsi ci sono le glowstone vuol dire che è un luogo rilassante vedete ci sono anche alcune robe molto incomplese come per esempio per esempio questa struttura qui mancano le finestre che sono relativamente nuove per esempio quella strada qui mancano i blocchi di ferro intorno devo inoltre andare a realizzare una versione sotterranea di questa città o meglio volevo andare a prolungare il laboratorio che avevo costruito sottoterra nella mia base volevo fare qualche collegamento comunque qualcosa di carino soprattutto devo andare a piazzare dei beacon da quella parte del mondo sono deciso perché qui ce ne sono due questo periodo sono praticamente sempre nella nuova zona quindi è il momento di costruire qualcosa vorrei di nuovo rialzare i chunk vedere il risultato della zona vedete una zona molto costruita in cui ci sono già due piazze di cui quella centrale quella che ho appena costruito sopra elevata idea mi piace quello lì è il limite del mondo soprattutto voglio andare a concludere quella struttura perché secondo me ha del potenziale andare ad aggiungere delle luci all'interno delle strutture per creare l'effetto di città illuminata come questo posto si diranno che ho raddoppiato la città in pochissimo tempo stavo pensando che questa mappa in camera mia va completamente aggiornata da vedere come era prima il luogo qui praticamente non c'era nulla adesso la mappa continua sia verso il basso sia verso destra ci sono state delle grosse costruzioni però devo essere sincero non voglio aggiornare ancora questa mappa vorrei lasciarla così un po come ricordo o comunque come mappa della zona vecchia ma anche sfruttare i banner come ho fatto in questo punto andare a segnare la vecchia città e la nuova città che non so il perché ma il design di questa stanza mi piace tantissimo come vi ho detto prima volevo ricollegare questa nuova zona questo laboratorio comunque tutta questa struttura sotterranea che come vedete il coppere non si è ancora ossidato perché perché essendo lontani i junk non caricano è anche spawnato uno slime che dovrebbe spawnare nella farm qui ho realizzato un video che non ho ancora pubblicato quindi posso dover sbericarmi a pubblicarlo ecco dicendo appunto che voglio andare a realizzare un altro collegamento qui sotto e magari andarci a ricollegare direttamente alla zona nuova altri laboratori comunque zone di storage può fare in modo che fosse un mondo a 360 gradi tutto questo credo di avervi mostrato tutto il mio mondo aggiornato vi invito di nuovo a commentare e darmi dei consigli su nuove costruzioni magari delle farm da andare a costruire nella zona nuova e detto questo nulla ciao